L'iniziativa senza precedenti organizzata da alcuni studenti dell'Istituto del Liceo Manno di Alghero, un concerto rapper, vero Lorenzo? Di che cosa si tratta? Sì, è un'iniziativa nata da noi ragazzi per offrire alla città un concerto che potesse svegliarla dal torpore invernale. Inviteremo Igrin, che è un artista di livello nazionale e con il ricavato della serata finanzieremo le iniziative del Liceo Classico Linguistico Giuseppe Manno. L'obiettivo è anche comprare delle strumentazioni che poi serviranno per tutti gli studenti interessati? Sì, esatto. Discuteremo dopo il concerto con tutti i ragazzi anche di come utilizzare i fondi ricavati. Enrico, quando si svolgerà? L'evento si svolgerà il sabato 16 aprile dalle ore 18.30, quindi vi aspettiamo.